Salve a tutti quanti, io sono Terrenas e benvenuti a questo nuovo video di Overwatch in cui vi presento il nuovo eroe, Ana. Ah, è un support con un fucile da secchino che cura. È un mindfuck, lo so, è una cosa bellissima però, è una cosa bellissima. Ah, ci divertiremo come pazzi. Allora, andiamo a spiegare molto velocemente le sue abilità. La sua ultra, detta brutalmente, potenzia un tuo alleato dandogli danno maggiore, subisce meno danno e gli dà velocità di movimento. Quindi rende Genji una cosa nonsense, rende Reinhardt fortissimo, insomma potenzia al massimo limite qualsiasi eroe. Poi ci sono le altre due spell, le altre due abilità che sono il dardo soporifero che ha un cooldown enorme e devi mirarlo, è una cosa che non mi piace molto. Considerato che tanto il sonno lo puoi togliere, cioè esci dall'addormentamento, dal narcotizzato, dall'essere narcotizzato dopo sei secondi, oppure se vieni danneggiato, il che è un po' mmm. E poi c'è la granata biotica è la parte più bella invece, che non solo è una cura effettivamente che puoi lanciare, ma potenzia le cure dei tuoi alleati. Cioè se un alleato viene curato, viene curato di più, viene curato meglio. Mentre se invece stai danneggiando un avversario con la granata biotica, quello che succede è che, quello che succede è che viene invece negata totalmente la possibilità di curare, di cura da parte degli avversari. Cioè se tipo hanno una mercy e tu lanci una granata su Reinhardt, l'avversario, non possono più curarlo per un periodo di tempo specifico, ovviamente. Ok, vediamo un po'. Eh merda, ho preso troppi danni. Stavo guardando un po' troppe cose, c'erano un po' troppi nemici. Dic'altro c'era la... Eh cavolo, avessi avuto una mira decente, invece no, una mira di merda. Dic'altro noi siamo tutti... Siamo tutti... Ah, anche loro sono tutti Ana, stiamo perdendo. Beh però dai, cinque. Beh dai, c'è chi ha mira peggiore della mia. Cazzo, 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 cazzo. Ah, vaffanculo, bastardo. Vai! Vai vecchio! Vai vecchio, ammazza tutti! Vai! Spacca tutto! Oh, cazzo. Oh, cazzo. Cazzo, rola. Perfetto, così. Curiamo. Forza, dai cazzo! Siamo andando anche abbastanza bene, considerato tutto. Piccato non è per... Eh, porca troia. Aio, aio, aio. Vai vecchia! Aggressiva! A cazzo duro senza futuro. Vai, così! Però D.Va non è esattamente il tank che... Lol. Quanto cazzo non fa male la E? La granata biotica sugli avversari fa un sacco di danno. Vai. Merda. Ho brutalmente perso il trade. Oh, cazzo, rola. Aio, 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 aio. Ok. Cazzo, rola. Eh, Zenyatta potenziato che si muove iperveloce e fa straridere. Ah. Uh, ok. La cosa è che... Se un alleato si mette in mezzo ti para il colpo. Ok, l'hanno fermato. Vai, vai, vai. Dritta per la tua strada. Cazzo duro senza futuro. Ok. Ok, vai così, vai così. La cosa è che sembra funzioni molto, molto bene in sinergia a qualcun altro. È buono per bloccare per un istante un avversario. Quello sì. Mamma mia. Quella cazzo di torretta! Cazzo, questo qua ci ha appena disintegrati, sì. Brutalmente anche. Beh, considerato che sono un support e sto facendo il terzo del danno. Lol. Mi piace a beccati tutti. Mi sa che ne ha uccisi tipo 3-4 là. Ops. Mamma mia. Figo comunque. Veramente, veramente figo. Secondo me è più adatto a giocare in attacco, eh. Merda. E mi sa che hanno cambiato abbastanza il team che ci possono fregare, eh. E il fatto che il proiettile non faccia tutto il danno subito non è una cosa... Cioè, è carino come meccanica, ma non mi piace del tutto. Lol. Non lo so. Non mi sa... Cioè... Eh, il fatto che ci sia soltanto 3 secondi dopo che esplode è una delle cose che mi fa impazzire abbastanza. Cioè, prima erano 4 secondi ed era, diciamo, semi-bilanciato. Adesso con 3 è un pochino più difficile da combatterci contro. Infatti, c'è una marea di cambiamenti su questa patch. È veramente una cosa senza senso. È veramente, veramente una cosa senza senso. Oh, cazzarola. Oh, le azioni al mio! Dobbiamo... Dobbiamo tirare il carico... Ma quanto cazzo blocca? Sta bastarda. Preso. Carichiamo. Vai, vecchia! Cattiva, aggressiva, cazzo duro. Perché l'hai lanciato lì? Perché senso c'aveva la... Eh, di nuovo ci ha fregato. Merda, merda. Eh, merda, ci ha inculati tutti. Dovevo lanciargli il dardo suo favorifero, mi sa, qua. Era la cosa ideale. Che altro siamo... Cioè... Lol. Ci serve un tank, aspetta. Allora facciamo così. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Dai, bravo, è così. Vediamo com'è essere potenziati dalla tizia. Curatemi, maledetti! Siamo... Abbiamo... Abbiamo quattro Ana e... Ah, uno è andato a Fk. Ma perché non ha dato il potenziamento a me? No, mi hanno... No! Dai, dai, pusciate! Eh, sta narcosi! Pusciate! Lol. Oh. Oh. No! No, non ha capito 10 secondi! Vabbè, rip. Comunque figo. Veramente, veramente figo. Quando sei potenziato è abbastanza... Non so se devi un attimo abituarti, amato che sei iperveloce. Però veramente, veramente figo. Mi piace un sacco. Ha provato l'eroe. Ha provato del tutto l'eroe nuovo. Bene, ragazzi. Io direi che questo qua è tutto quanto per questo video. Ci vediamo al prossimo. Io sono Terenas. BOLO! Ciao